Siamo partiti con quattro corriere da Vicenza e siamo arrivati a Genova. Ho detto a quelli della corriera dove ero io che non posso tornare assieme perché devo per notare un giorno lì per portare dei fiori a una mia paesana che aveva la figlia morta lì a Genova, la figlia ammazzata sotto una macchina dentro l'ospedale. Nelle 500 l'hanno... e così ho detto che gli vado senza altro a portare i fiori e lì sono partito, sono andato, dopo ho finito, è stato un po' il trabusto, sono andato per andare a dormire. Il corteo è stato festoso, importante, 300.000 persone c'erano. È stata un'esperienza negativa e positiva da un punto di vista per volere solidarietà e andare a conto i grandi del G8 di Genova che volevano essere i padroni del mondo. Arrivati per andare a trovare da dormire, la signora mi ha indicato la scuola di IES perché la stazione non si poteva dormire, è piena di pulizia. Mi ha indicato la scuola di IES, mi ha fatto fare 100 metri anche con lei e mi ha indicato la scuola, è stata molto gentile e l'ho ringraziata. A un certo punto sono andato lì, ho trovato posto nella scuola, mi ho messo in un cantoncino prima a 5 metri dalla porta e poi mi sono cambiato posto, mi sono colgato lì e dopo ho dormito alle 11 e mezza, sento un trambusto, sento un trambusto, mamma mia, sento delle cose pesanti. Le dico, mamma mia, is it black block? E hanno cominciato, hanno aperto il portone, hanno cominciato a agnare con i manganelli e urlavano, erano delle belve, erano delle belve, ho visto una cosa e che non auguro a nessuno al mondo di trovarsi in mezzo a una cosa del genere. Belve! A me mi hanno rotto un braccio, una gamba e dieci costole. I ragazzi che gridavano mamma in francese, tedesco, italiano e tante parti altre del mondo che c'erano, per i 300.000 eravamo e lì era piena la scuola. È una cosa indescrivibile quello che è successo. Io intanto col mio avvocato ho fatto ricorso alla Corte Europea e di caso col mio caso ha fatto esplodere un caso importante di portare una legge in Italia che è sacra, la legge contro la tortura e spero che questo sia il primo atto che venga subito applicata, fatta prima di tutto promossa e applicata nel nostro paese come legislazione, come cosa importante perché queste cose non devono più succedere. È il primo passo avanti perché tanti parlano ma c'è stato, hanno detto che ti danno 45.000 euro ma se parliamo di soldi non siamo più niente, siamo fuori dalla realtà. Guardiamo i fatti che non devono più succedere. Con l'atto di tortura chi fa i bali paga perché nella scuola Diaz i grandi che hanno fatto quell'irruzione, i capi, i capi della polizia, il governo, hanno condannato noi e assolti loro, loro, è una criminalità organizzata statale, dello Stato e va contro gli interessi della nostra cluività, alla nostra democrazia, al nostro pensiero di democrazia reale. Noi abbiamo la più grande Costituzione del mondo, deve essere applicata che solo applicando la nostra Costituzione c'è un benessere collettivo che non ha bisogno di altre cose. Basta applicare. Noi vogliamo una democrazia e l'indipendenza nazionale. Questo è importante. L'indipendenza nazionale vuol dire che noi siamo un popolo bravo, laborioso, eletto e costruiamo pace con i popoli. E costruire una grande Europa dei popoli e non un'Europa delle banche. E' ora di finirla. I nostri figli devono vivere una vita degna di essere vissuta meglio della nostra. Perché noi la costruiamo per loro per questo. Dobbiamo rimboccarci le maniche ancora a riportare la vera democrazia nel nostro paese e alla nostra indipendenza nazionale. Perfetto.